La sua vita con il mare, con il corpo, ha sfidato il confine dell'uomo, andare oltre, ci sia arrivato a come? Io non ho sfidato niente, ho sfidato le credenze false dei medici, i quali ritenevano che superando determinate profondità il mare avrebbe schiacciato l'uomo, ma così non è stato, perché c'è una forma di compensazione spontanea che ci ha fornito il supremo architetto dell'universo, ci ha dato quello che i medici oggi chiamano il blood shift, cioè lo scivolamento del sangue dalla periferia al centro a protezione che cosa? Ormoni, cuore e cervello, gli organi più sensibili. E noi grazie a questo scudo di sangue, dico noi perché non è un qualcosa che riguarda solo me, ma riguarda tutti quelli che superano determinate cose, grazie a questo scivolamento del sangue e l'uomo può superare determinate cose. Quindi non c'è bisogno di usare una spinta medica dal laboratorio? Ma per carità, queste sono le cose che mi fanno, mi irritano terribilmente. E si vede che il suo sguardo è cambiato. Ma sì, mi irritano terribilmente perché è la negazione stessa dello sport. Perché sport significa intanto darle la definizione di sport. Io non sono buono perché tanti altri ci hanno tentato, ma hanno fallito tutti miseramente. A parer mio la cosa più giunta da dire è che lo sport, l'uomo lo esegue, per migliorare quelle che sono le sue risposte fisiche, emotive e quindi lei capisce che il doping è la negazione di tutto ciò, quindi la negazione dello sport. Può essere una tentazione il doping? La vede come tentazione? La possiamo mettere tra gli otto vizi capitali dell'uomo e non i sette? No, 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 perché vede l'uomo in se stesso ha una grossa chance, che è la volontà. Questo me l'ha insegnato, ma lo sa chi? Un giorno che io sono andato a fare un incontro con dei ragazzi poverini che erano incappati nella droga per i prodotti e parlavo di mare e naturalmente parlavo, come sto facendo adesso, di volontà. Però c'era uno di questi ragazzi che mi ha interrotto e mi ha detto, ma signor Mallorca, lei sta parlando di volontà, però io vedo che da quando è qua non sta facendo altro che mangiarci le unghie. mi mise in difficoltà. Però gli dissi, facciamo una cosa, ci diamo appuntamento a un mese da oggi? Ci siamo dati l'appuntamento. Lei si è presentato con le unghie lunghe? Non ce l'ho tutto. Ah, ecco, perfetto. Guardi qui, inquadriamo, le inquadriamo. È bella questa cosa. Dopo qualcosa come, diciamo, 75 anni che mi mangiavo le unghie, mia madre con me le aveva tutte. Le ha provate tutte. Anche il chinino. Ah, ecco, addirittura. Sì, era uno dei meriti più famosi che si usava, perché l'amaronno avrebbe dovuto allontanare. Allontanare. Allontanare, esatto. Invece no. Non c'era verso. Senta, un messaggio antidoping positivo. Lei ha una luce particolare negli occhi. Io sono colpito da questa cosa. Un messaggio antidoping di pensiero positivo. Parlavo di volontà. Il bello è che l'uomo con la volontà, che deve esercitare quotidianamente, perché anche l'allenamento prevede e prescrive l'allenamento alla volontà, può fare quello che vuole. L'uomo, purtroppo, perché certe volte l'operato dell'uomo è diretto verso il male. Ma purtroppo, anche se dovrà essere positivo, ma io non riesco a essere totalmente positivo, perché ho 82 anni. Quindi ne ho viste di cotta e di crude. Me la lasci passare. Dicevo, deve indirizzarsi sempre a superare tutte quelle situazioni che potrebbero essere di ostacolo alla sua visione del mondo in genere. Perché l'uomo si deve muovere sulla terra. È soltanto il superuomo quello che riesce a liberarsi da una montagna a un'altra senza soffrire. Ma l'uomo deve soffrire. E chi pratica lo sport deve soffrire perché deve allenare se stesso a sopportare sovente. sono delle situazioni anomali. Per esempio, il fatto di dover superare i 100 metri di profondità. E io mi rendo conto che per un uomo, prima questi metraggi, potevano... Ma qua... la Sicilia. Giro, 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 giro. Anche se... eccola lì, perfetto. Che meraviglia. Certe volte mi chiedono, ma lei dov'è che potrebbe abitare qua? Ci sono dei ponenti bellissimi. E... di che stiamo parlando? Del messaggio. L'uomo e la sofferenza. Ah, l'uomo e la sofferenza. La sofferenza è parte intrinseca dell'uomo. Con la volontà, l'uomo riesce a superare i dolori delle malattie, i dolori dei lutti, tutto riesce a rasso. Io ho perso sette anni fa, noi anzi, non io soltanto. Mia moglie Maria Patrizia e mia figlia. Una delle persone carissime della nostra famiglia. Le sta cambiando l'espressione. Le sta cambiando l'espressione. Io non lo faccio volontariamente. Questo non dipende dalla mia volontà. Lo faccio involontariamente, ma perché ricordo che proprio il 6 gennaio del 2005 ho dovuto chiudere gli occhi a mia figlia Rossana morta per tumore. Se io non avessi avuto la volontà, la volontà di non mostrarmi vigliacco al cospetto di colui che ha perpetrato un simile diritto, io mi sarei ammazzato. E invece ho detto a me stesso che avrei dovuto continuare a vivere anche per mostrare ciò che l'uomo può fare. L'estate in piedi. Passate 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 in piedi.